Donne è il trimone, che è generico. Sì, sì, vabbè, è una generalizzazione allucinante, però. Cazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il TikTok che vi ho mostrato all'inizio è stato pubblicato in questi giorni da una ragazza abbastanza seguita e ha creato un po' di discussione per le cose che dice. Un paio di persone me l'hanno mandato in DM su Instagram, così andando a riparlarla in un video. Lo farà vedere intero, lo farà vedere sicuramente. Lo faremo oggi, perché già dai primi secondi permette davvero bene il mio aspetto delle argomentazioni che mi convinceranno del fatto che noi uomini siamo incapaci di creare battute divertenti e che non capiamo nemmeno quando è il momento giusto per farle. Personalmente porto un po' in disaccordo con la sua affermazione originale. Per esempio, tutti i miei comici preferiti sono maschi. Sono pronto a scommettere che se affermassi 100 persone per strada, divise equamente tra uomini, donne, bianchi, neri, etero, LGBT, gli chiedessi i loro tre comici preferiti, la qualsiasi totalità sarebbero comici maschi. Penso che ci siano molte cose su cui sia giusto criticare il genere maschile. Non penso però che l'ironia sia una di queste. Penso che ce la capiamo piuttosto bene rispetto alla concorrenza. Ma direi di vedere il video di questa ragazza per ascoltare quello che ha da dirci. Ma prima, state guardando questo video senza essere iscritti. È il momento giusto per iscriversi perché siamo vicini ai 180.000. Ringrazio a tutti quelli che lo faranno e guardiamo questo video. Gli uomini non fanno ridere e non riescono a capire la differenza tra battuta e offese. Non riescono a capire il momento giusto per dire qualcosa. Molto 1980 all'incirca, come stile. Che mi è appena capitato nei protè. Questa ragazza parla di una violenza subita da parte del nonno, ok? E questi sono i ragazzi nei commenti. Rashford? Meglio mangi uno o Rashford? Da parte del nonno, ok? E questi sono i ragazzi... Ma che era la domanda? Rashford, chi mi consigliate? Lo so capò. Ah, capò. Se nei commenti. Posso andare avanti? Vigiliete tra Alain e Mbappé. Uno ha scritto io, perso la scherina per colpa di Valverde. Ragazzi, conviene fare il donatore o il max o mi consigliate il gran cavaliere? Eccoci ancora. A parte qualcuno sano, grazie a Dio. Eccoci. Terribile. Quando dicono che la cultura dello S-T-U-P-R-O... No, ragazzi, inizia a parlare con il codice fiscale. Cos'è l'S-T-U-P-R-O, ragazzi? No, è un disastro, zi, adesso entriamo in quei mondi strani. Devo dirlo capito. Ah, no, è lo stupro. Ebbè, l'ha detto di staccato perché TikTok gli segnalava il video. Ah, ok, ok, ok. Il video è normalizzata, mica è un'esagerazione. Cioè, questi sono gli uomini, per loro è una battuta, c'è chi ne frega? E il fatto che ci siano così tanti commenti e così tanti like, mi fa capire che la maggior parte degli uomini ormai la pensa così, cioè non gliene frega niente. È un'esagerazione, cioè per loro puoi paragonare un gioco a un'esperienza del genere. Perché... Intanto chiamare FIFA gioco sta esagerando. È il primo punto di errore. Perché altro, Danjuma Evolution è un bel rotto in culo, nel senso che questo ha detto Rashford, però costa pure una cifra di più. Comunque, vabbè, mamma, mi sono... Ma non mi ha capito il senso del video. No, vabbè, no, è... Beh, ma mi sono rimasto là perché... No, ma è vero che la cultura dello stupro sia sicuramente abbastanza, come dire, normalizzata, cioè che la gente ci fa le gag sopra. Io ovviamente ho scelto. È assurdo, soprattutto quando vediamo anche comunque donne che lo fanno nei confronti di uomini Sexy, voglio dire. Posso dire la mia, però, paragonare TikTok agli uomini, cioè è un'altra cosa. Sì, no, vabbè, cioè io sto evitando il discorso del genere... Del fatto che generalizzi perché... Cioè, TikTok... Cioè, dire gli uomini non sanno fare ironia, sei rincoglionita nel senso, no, non è... Per loro è questo tipo di dolore. E comunque è sempre giustificato che facciano questi atti animali perché... Non c'escono a trattenere, sì... Ok, il suo TikTok va avanti ancora per qualche secondo e lo guarderemo, ovviamente. Ma è interessante notare il suo ragionamento che... Ma penso che per atti animali intendesse i commenti, non credo si intendesse lo stupro. Eh, chi è che la giustifica? Il coglione! Se no, non è che se l'uomo lo giustifichi. TikTok. Lei ha iniziato il video dicendo che gli uomini non capiscono quando possono fare battute, quando non è il caso e che comunque non fanno ridere. Questa è la sua tesi. E per dimostrare che quello che pensa lei sia corretto, non va a prendere degli studi scientifici che magari dimostrano che le donne sono più divertenti degli uomini. Quello che fa è aprire un TikTok, leggere alcuni commenti scritti da ragazzi che lei personalmente non trova divertenti e sulla base di questi commenti lei aggiunge alla conclusione che tutti gli uomini non fanno ridere e non capiscono quando possono fare battute. Questo è un perfetto esempio comunque della possibilità di dire effettivamente qualcosa di giusto ma sbagliare generalizzando come un idiota e basta. Ah, completamente. Non certo che sia un metodo per fare ricerche assolutamente infallibile ma tenendo a mente questa cosa nei commenti che un attimo vedrete. Peraltro, se posso una cosa, un attimo off topic, cioè se è concentrata sul fatto del giochino che provoca dolore è come se il gioco FIFA in questione possano giocarlo solo gli uomini. Non è questo di per sé un'esclamazione sessista perché una donna non può giocare a FIFA. Non ti può piacere pallone. Comunque FIFA può provocare piuttosto dolore. Sì, ma il discorso è che è un commento di merda. Da dove arriva è rilevante. Sì, 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 ma... Bolge. Non pensavo che iniziasse, già il discorso fosse questo. Pensavo fosse una roba di genere. Suonerà molto utile. Direi di continuare a guardare il suo video. Comunque è sempre giustificato che facciano questi atti animali perché poi non escono i trattenesi. E buttiamo le stesse tre battute. Tanto sembra che sono tutte battute sulle minorenni. A parte che non c'è stato a mezzo manco un esdrongo, sono veramente deluso. Dei giochi per fare un po' di shaming. Quello è. Quello è l'ironia dei ragazzi. E se voi vedete è sempre la stessa. Non escono mai con qualcosa di nuovo. O magari guardano una comandica. Ma cos'è? Dei dammi. Ti sei? Cioè? Regà, quando ha gli spasmi al cervello non la riesco a seguire onestamente. Certo che è un po' difficile riuscire a trovare degli esempi di ironia diversa nel momento in cui tu decidi di prendere in sconsiderazione i commenti di TikTok. Che sono letteralmente commenti che vanno dove tira il vento in quel momento. E letteralmente esistono più meme nei commenti di TikTok che come meme veri e propri. Io ricordo che TikTok è stata la patria della cosa che ha dato vita al fatto che io mi fossi trasferito in Portogallo perché ricercato in Italia. Questa è l'altezza di cultura di TikTok e non prendere in considerazione su fatti gravi come può essere una cosa del genere. L'esempio è sbagliato perché in quel caso era corretto però. Eh certo ci mancherebbe altro. Sarà comunista. Dando gli altri 23. Adesso poi i commenti eh. E' interessante notare come tra tutti gli esempi che poteva fare le è rimasto impresso proprio chi l'ha accusata di essere comunista o dei gem. A quanto pare qualcuno ha fatto centro. Ma comunque le sue argomentazioni per sostenere che gli uomini non capiscono niente e che non fanno ridere e addirittura normalizzano i rapporti senza consenso, una cosa gravissima, sono una decina di battute che le ha trovato offensive in dei commenti di TikTok. E oltre a questo di argomenti fantoccio che si è inventata lei, imitando come ragionano gli uomini. Devo dire che sarà davvero difficile smentire questo suo discorso demenziale. Ho provato a cercare il video originale perché volevo leggere anch'io i commenti, anche perché non capivo nessuno tra quello che dicevano e la storia raccontata dalla ragazza. Ma purtroppo non l'ho trovato. Ho cercato il Sonic Name, mi erano due emoji e ci sono tipo 7000 profili che si chiamano così. Ho letto i commenti per provare a vedere se qualcuno diceva il tag di questo profilo, ma niente. Forse sono io che sono incapace, ma comunque era quello che ha scritto qualcuno, forse ha tolto i commenti, quindi sarebbe stato inutile. Dunque direi che partiremo prendendo per vero tutto quello che ha detto lei. L'ironia? Io penso che sia estremamente suggestiva. Per esempio, a me fa molto ridere, mi ha detto humor, so che tanti non piace, a molti altri sì. E va bene così. Per questo personalmente non penso che esistano argomenti sui quali non si possa scherzare. Tuttavia, penso che ci voglia comunque un certo contesto e un po' di buonsenso. Questo vuol dire che se ti limiti a insultare qualcuno con la n-word o parole simili, o insulti qualcuno che appena ha risultato una tragedia o una malattia, in quel caso non hai fatto una battuta, stai solo insultando, ma sugli stessi argomenti si potrebbe tranquillamente costruire una battuta. Ma questo ovviamente è soggettivo e se a qualcuno non piace che si scherzi su un certo tema, non pretendo che debba trovarlo divertente. Come del resto però, non mi aspetto che lui mi impedisca di fare una battuta su questo tema perché a lui non piace. Altrimenti, se una persona si offende vuol dire che non si può scherzare su quell'argomento, vuol dire che non puoi scherzare su nulla, perché sarà la persona più sensibile di tutte su ogni tema a decidere su cosa si può scherzare e cosa no. Ma fatta questa premessa, su cosa penso io, sull'ironia, dei commenti così, su TikTok... Guarda, su questa cosa dell'ironia mi trovo piuttosto in realtà d'accordo, eh. Cioè nel senso... Anche io sono d'accordissimo. Che il mio pensiero in realtà è sempre stato, poi sarà un pensiero da cazzone, però il mio pensiero è effettivamente... perché non si può scherzare su letteralmente tutto? Beh, dipende appunto come dice lui dal contesto. No, esatto, dipende dal contesto, dipende con chi lo stai facendo e via dicendo, ci mancherebbe altro. Ma penso sia sottointeso, nel senso se tu dici a un amico tuo c'hai la mamma puttana, è diverso che se vai a uno che non conosce e gli dici la stessa identica cosa, eh, ma credo sia... Quella non è ironia, Marzò. No, è nel senso... Quello è un insulto. Esatto. Ma no, se lo dice l'amico tuo non è un insulto, vale, poi se Gianmarco me dice terrone pelato non me la prendo, se me lo dice uno in chat che non conosco è già diverso. Sì, però anche in quel caso non è che io sto facendo dell'ironia, cioè è quell'ironia appunto tra amici che letteralmente ti dici, dai, del fio della mignotta e basta, infatti se uno a me mi viene e mi dà del fio della mignotta, cioè non è che mi fa ride. Però se uno, sì, io, regà, me muore il gatto, metto la foto del gatto morto e uno me scrive a Lucky, l'ha pushato il gran cavaliere, a me farebbe ridere, cioè a me farebbe ridere, il discorso è quello, però, che è molto soggettivo e secondo me c'è molto spazio per fare questa cosa e soprattutto sui social, cioè non sto dicendo che devi sempre stare alle cose, però comunque sai che può succedere, nel senso come cose. Di una ragazza che racconta una violenza che ha subito, penso che siano assolutamente evitabili, soprattutto se fatti direttamente nella tua sezione. Davvero il gatto è il gran cavaliere, quindi. Lei? Ma dei commenti su TikTok, stritti da persone che avranno un'età media minore di 15 anni, è sufficiente a dire che tutti gli uomini sono così e normalizzano una violenza? Dovrebbe essere una domanda retorica, dato che la risposta è chiaramente no, ma a quanto pare per molte persone è veramente così. Trovo abbastanza svilente dover davvero spiegare a un adulto, perché se un minuscolo gruppo di persone si comporta in un certo modo, non vuol dire che tutte le persone che hanno una caratteristica in comune con loro si comporta così, anche perché questo ragionamento è letteralmente la base del sessismo o del razzismo. Piuttosto, quello che faremo sarà fare lo stesso giochino che ha fatto lei, ma a parte invertite, per dimostrare quanto sia facile. Ma anche perché nei commenti c'erano tante ragazze che le davano ragione, te lo giuro per davvero, letteralmente, palese, totale. E c'è chi commenta dicendo, mamma mia, che cazzo di commenti di merda comunque, che odio quelli che parlano così, che fanno tipo, sì sì, che fanno proprio capito, madonna. Sì, ma non sono tutti così? Mi untano. Qualcun altro risponde, sì, tutti. E uno che ha commentato dicendo che anche le ragazze lo fanno, uno ha risposto di trovare una ragazza che fa ironia su una violenza di questo tipo. Ok, sfida accettata. Oh no. Non troverò una ragazza che si comporta così, ma addirittura una pagina di meme per pubblico femminile, con più di un milione di follower, alfa woman. Aia! La peggior pagina ancora in vita! Chi l'ha creata? Ancora non ha smesso! Mamma mia, alfa woman nell'altra, ce n'era un'altra di donne veramente imbarazzante, di cosa, di pagina, che schifo! Non mi ricordo? Eh sì, mamma mia. Io non la ricordo, però. Frida pure, mamma mia. Frida, sì, mi faceva venire veramente fredde le ginocchia. Che riporta una notizia che dovrò censurare, che dice Costringe l'uomo a 36 ore di, indovinate voi cosa, lo trovano in lacrime in strada. Una notizia veramente terribile. 36 ore è una follia. E cosa avrà scritto questa alfa woman? È muto, con una serie di risate nei commenti come reazione. Ma alla fine questa è solo una pagina di meme, non ho portato delle prove solide come le sue, cioè 5 commenti in croce scrittura dei maschi. Proviamo a ripetere il suo stesso esperimento. Il suo era un TikTok che parlava di una violenza subito da una ragazza. Proviamo a vedere i commenti di una notizia che riporta una violenza commessa da una donna ai danni di un uomo. Sono certo che in questo caso le ragazze avranno solamente parole di supporto per lui. Per una volta che le prendono loro, ci sta, con il pollice in su. Vabbè, ma questo era solamente un commento. Gli altri saranno sicuramente tutti positivi, ne sono certo. Quando ce vò, ce vò. Brava, brava per aver accreditato il marito. Eppure ero convinto che fossero solamente gli uomini a scrivere questi commenti stupidi. Che strano. Mica devono essere solo gli uomini a picchiare le donne. Ogni tanto si sente una cosa buona. Un uomo che viene picchiato da una donna è una cosa buona. Eppure io ero veramente convinto che le donne fossero esseri superiori che sapevano quando è il momento giusto di dire le cose e quando no, me l'ha detto la mia tiktoker preferita. Ma sapete cosa? Questi sono solo tre commenti. Il prossimo sono certo che sarà positivo. Salve. Ovviamente la violenza vale per entrambi i sessi. Vedete? Questo è un commento per la parità. Quando è un uomo a essere vittima delle persone non si mettono a diminuirlo come fanno gli uomini con le donne. Nero, certo. Continuiamo a leggere questo splendido commento per la parità. Salve. Ovviamente la violenza vale per entrambi i sessi, ma raramente è la donna che picchia l'uomo fisicamente. La notizia mi ha rubato un sorriso a denti stretti. La notizia mi ha rubato un sorriso. Wow. Bene, ogni tanto si sente il contrario. Brava la signora. Doppia emoji della risata. Con tante risate a seguire. Incredibile. Quindi oggi abbiamo scoperto che anche... Sì, ebbè, figura delle donne possono sminuire e fare battute su un uomo che subisce delle violenze. Fortunatamente però, chi è dotato di un quoziente intellettivo superiore a 75 e chi non odia un gruppo di persone è in grado di capire che se una mangiata di persone di un certo genere si comportano in un certo modo, non vuol dire che l'intero genere sia così. Sì, ma a parte del libro di questa tipa... Sì, penso che questo sia comunque, cioè, tipo, la base di una marea di discorsi. Ma scusate, ma 36 ore come è fatto a non avere un infarto? Non l'ha fatto. Ma fai, fai, fai. Magari gli è venuto. Toc parla di un argomento piuttosto interessante e dice che gli uomini non sono capaci di far ridere e che non sono divertenti. E questo può essere un suo gusto personale, magari trova più divertenti le donne degli uomini, e ci sta. Ma se guardiamo le cose da un punto di vista più ampio, la realtà è l'esatto contrario. A parte il fatto che basta guardare la lista dei comici più famosi e più avanzati al mondo e noterete come ci siano solamente uomini. Ma quando qualcuno gliel'ha fatto notare, la sua risposta è stata questa. Quella frase, una ragazza parlava della sua violenza. Oddio, i ragazzi ci hanno reso su perché neanche quello riescono a prendere seriamente. E io parlo dell'uomo medio. Grazie. Fammi vedere i comici che hanno studiato, effettivamente, anche per far ridere. Sia mai che il vostro ego venga in qualche modo danneggiato. Quindi, lei non vuole paragonare i comici professionisti, sia uomini che donne, che hanno studiato entrambi per vedere chi è più divertente. Le ha indicato 5 commenti scritti da dei tredicenni su TikTok e ha deciso che quello è l'uomo medio. Che è un po' come se qualcuno volesse dimostrare che le donne sono più forti degli uomini nel sollevamento pesi. Quando qualcuno gli fa notare che gli atleti uomini sollevano molto più degli atleti donne, lei prende 3 video di dei ragazzini che vanno in palestra per la prima volta e fanno le esecuzioni tutte storte col bilanciere vuoto, dicendo che loro rappresentano l'uomo medio e che per questo è scarso. Ma visto che lei voleva parlare di non comici, ma di uomini, medi e donne medie, per nostra fortuna e sua sfortuna abbiamo degli studi esattamente su questo. Infatti i ricercatori dell'Università del North Carolina hanno analizzato ben 28... Ma perché sono sempre del North Carolina poi? No, io mi percorrò che sono due, cioè nel North Carolina ci sono solo università, non c'è altro. Una gialla madonna! ...di che analizzavano quanto fossero divertenti circa 5.000 persone medie, quindi non comici professionisti, sia uomini che donne, e l'hanno fatto per vedere se questo stereotipo che i media e gli uomini sono più divertenti delle donne, condiviso da entrambi i sessi, fosse solamente uno stereotipo o se ci fosse un fondo di verità. In uno studio che viene spesso nominato, per esempio, in pratica hanno preso un gruppo di donne e di uomini, nello stesso numero, e gli hanno dato delle vignette disegnate. E loro dovevano scrivere delle didascalie con l'obiettivo di rendere divertenti. Hanno poi mostrato queste vignette a un altro gruppo di persone, sempre formato da uomini e donne, e gli hanno chiesto di dare un voto a queste vignette in base a quanto l'hanno trovato divertente. Il risultato è stato che le vignette degli uomini hanno ricevuto dei voti significativamente maggiori, sia dagli uomini che dal donne. Che è il meme tuo? Che un meme, questo è il meme. Solamente uno degli studi, in Italia ce ne sono stati 28, che hanno avuto da questi ricercatori. Il risultato è stato che in media gli uomini sono effettivamente più divertenti delle donne. Per spiegare questa cosa le persone hanno fatto diverse teorie e ci sono anche varie ipotesi. C'è chi pensa che semplicemente siamo fatti così, uomini e donne sono diversi, e l'ironia è una caratteristica più maschile. C'è chi pensa che riguardi la nostra evoluzione, perché, per esempio, quando si sente una ragazza che descrive il suo ragazzo ideale, tra le varie caratteristiche che deve avere, molto spesso si sente che deve essere simpatico, deve saperla far ridere, essere divertente e così via. Al contrario, quando un ragazzo descrive la sua ragazza ideale, è molto difficile che dica che deve farlo ridere, deve saper fare tante battute. Infine, secondo qualcun altro, il motivo è lo stesso che causa ogni cosa che succede nel mondo, e cioè il sessismo, il patriarcato e la misoginia. Infatti, il motivo per il quale le donne sono meno divertenti, secondo loro, e ci sono meno donne tra i migliori comici al mondo, non è perché sono meno divertenti in realtà, ma perché sia gli uomini che le donne le percepiscono come meno divertenti per colpa degli stereotipi. E una delle persone che la pensava così è una ragazza, una co... Quanto cazzo non puoi scappare da questo discorso quando te lo fanno? Cioè, quelle persone che ti dicono, eh no, perché sono i secoli che hanno portato a questa situazione, quando ti fanno ovviamente dei discorsi su cose non serissime, e non puoi dirgli nulla. Cioè, non... Poi vince. Comica? Che era convinta che le persone... Eh sì, eh! Ma no, ma semplicemente è quello che faccio. Cioè, io ci sono certe battaglie che secondo me non vale la pena prendere. È la stessa cosa che ho detto a Manuso che dice che l'ho dissato. Vabbè, merzo, cioè, quello però è vero. Infatti non ho capito bene la situazione, ma poi dai, ci rifacciamo... No, e non possiamo fare la reazione intesa vincente. Non si può fare. Eh, vabbè, lo fa Giulio. Mamma mia. Intesa vincente, Giulia. Quello delle parole... Di ma per quanto tempo? No, non tantissimo, dai. E poi ti diverti. Mi diverto sicuramente, ma sono a picco, ma c'ho il covid. Come c'è il covid, dai? Beh, stai a parlare con il paziente zero, incollo. Se gli dici la luna tua e il segno zodiacale, ti dice precisamente tutti gli ascendenti. Ma è la stessa cosa... Ma va, fa un culo, va! È la stessa cosa classica. Poi il pubblico di TikTok, comunque, è sempre quella. È la stessa cosa mia dei pipponi che avranno sentito una volta una cosa e dicono, ah, i pipponi, questa... Prendi il topic, lo dici, prendi la cosa che ti fa avere successo, che ti dicono brava, bravo, lo dici, e va. Questo è sempre uguale. E lei è una ragazza. E se fosse stato un uomo, le persone l'avrebbero apprezzata molto di più. E per questo ha avuto un'idea geniale travestirsi da uomo e andare a fare uno spettacolo di stand-up comedy vestita da uomo. Mi ricordo un po' un'altra donna, Nora Vincent, che anche lei era convinta che gli uomini fossero privilegiati e ha provato a vivere come un uomo per più di un anno, ma poi si è resa conto di quanto fosse difficile ed è stata un'esperienza traumatica. E anche l'esperimento di questa comica è finito piuttosto male. Infatti lei si è vestita in questo modo per salvare un uomo, ha fatto il suo spettacolo, ma sfortunatamente non è andato bene quanto sperava lei. E questa è stata la sua reazione una volta uscita dal locale. Ma chi è John Lennon? Sto dicendo che è andato alla grande, c'erano degli streni e non ti capivo, ma hanno comunque fatto qualche risata. Comunque, giusto per dire, ma prima che poi dici la cosa, la persona che la sta sostenendo in questo momento è un uomo. Ah, ok. No, no, è un uomo, quindi nel senso come può notare anche da sola non è esattamente quello il discorso. Eh sì, sono persone e persone. Sì, beh, ma poi magari fa solo schifo al cazzo e non fa ridere, cioè nel senso, cioè devi anche sapere il suo gioco. La sua reazione mi fa capire che lei era veramente convinta che l'unico problema fosse che non era un uomo e che le persone non la trovano divertente solo perché era una donna. Quando si è scontrata nella realtà ha capito che non è assolutamente così, non l'ha presa molto bene. Immagino che lei fosse convinta di questa cosa sia per tutta la propaganda dei fantomatici privilegi maschili ma anche perché l'alternativa era credere che la sua carriera non stava andando così bene quanto sperava per colpa sua e ovviamente preferiva dare la colpa al maschilismo. Soprattutto i suoi ragazzi che continuano a mentirle forse è convinto di farle un favore ma in realtà penso che sia il suo più grande nemico. Penso che sia meglio sentirsi dire la verità piuttosto che vivere in una menzogna per tutta la vita. Sono contento comunque che lei abbia fatto questo esperimento anche perché possiamo aggiungerlo alla lista di tutte quelle ragazze convinte che gli uomini siano privilegiati ma che dopo aver provato a essere un uomo anche solo per poco tempo ne escono devastate. In ogni caso per oggi penso che sia tutto sono curioso di sapere la vostra opinione nei commenti per il resto ringrazio di cuore gli abbonati al canale per il supporto ci sei arrivato in ritardo ci sei arrivato Manucia Revitormendo Manucia Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori